Quali sono le carte da avere assolutamente in OP08? A quali colori apparterranno? E che impatto avranno sul meta che verrà? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Fra poco meno di un mese, OP08 arriverà sui tavoli da gioco, portando nuove carte e leader che saranno pronti a contendersi il predominio dei Sette Mari. Tra il pool di 150 carte, tra versioni regolari ed alternative, alcune tra esse si sono distinte per potenza ed efficacia, andando a potenziare i propri colori in vista di un nuovo scontro che con le due leggende aprirà si pari che nasconderanno scenari ancora più ricchi di colpi di scena. Nel video odierno quindi andremo a prendere in considerazione ben 11 carte nello specifico, quelle che personalmente reputo le migliori e che creeranno sinergie con gli elementi già assistenti in gioco pubblicati nei set passati, dando vita a nuove micidiali combinazioni che faranno tremare chi vi giocherà contro. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le carte da avere assolutamente quando arriverà OP08 sui nostri tavoli da gioco. Andiamo a dargli un'occhiata. Partiamo da Charlotte Pudding. Il suo effetto riprenderà quello di Kid a costo 5 Blocker, con l'unica differenza che, per il magnetico, il Don tornerà in gioco pronto per essere utilizzato. La ragazza risulterà quindi essere una carta fondamentale in tutti i viola o ibridi, che faranno del sottrarsi risorse un fattore comune. Con questa e lo stesso Eustace, magari impiegati perfettamente in curva, potrete minimizzare ogni privazione allo zero, potenziando allo stesso modo la vostra strategia di gioco. Nami risulterà interessante soprattutto in vista dell'arrivo di Nico Robin in OP09. La navigatrice, infatti, grazie al suo effetto, non solo smantellerà le fila rivali, ma consentirà alla studiosa di rifornirsi la mano all'occorrenza. Carta davvero molto interessanti da utilizzare, sia nell'immediato che in vista di nuovi capitoli in futuro. Carrot aggiungerà quel pizzico di controllo al verde, sia in fase di giocata che in attacco andrà a congelare un personaggio avversario con costo pari a 7 o inferiore, e ciò la renderà pericolosa soprattutto nel mid-late game, fondamentale principalmente se giocate in combinazione con Doffy costo 10 e Bonnie di OP07, per andare a stallare il gioco avversario, specialmente se vorrete chiudere il match. Arriviamo quindi ad Edward Newgate. Giocabile nel deck di Marco Rosso-Blu, questo colosso andrà a dar fastidio e non poco alle dinamiche avversarie. Infatti, se chi vi giocherà contro non possiederà sufficienti carte in mano per dichiarare un attacco, esso si ritroverà a dover offendere unicamente con il suo leader. Carta che in situazioni favorevoli, come per ogni costo alto, potrà cambiare addirittura l'andamento di un incontro. E dopo il papà, anche Ace risulterà una carta molto utile per Marco, in sintonia con il corrispettivo costo 4 rosso blocker, infatti, in un singolo turno impiegherà in campo una forza di attacco e difesa simultanea che, all'occorrenza, vi potrà tornare utile addirittura per offendere senza quartiere il rivale, mirando direttamente alle sue vite. Charlotte Nillin, invece, per il viola, presterà una dinamica che, in questa tonalità, si è vista relativamente poco, aggiungere una vita a quelle già a disposizione ed allo stesso tempo distruggere un pezzo con costo pari a 6 o inferiore sul terreno nemico. Si vedrà un gran ritorno di Kaido del quarto starter in questo meta? Di certo lo proverò per saggiarne la potenza. Lo stesso Kaido, controparte character nero d'altro canto, risulterà un buon motore aggressivo per la tonalità di appartenenza della marina. Utilissimo in fase offensiva, non solo toglierà di mezzo un personaggio avversario con costo pari a 7 o inferiore, ma farà scartare una carta dalla mano rivale. Interessante soprattutto se Kivi starà di fronte si ritroverà agli sgoccioli, vietandogli così di usufruire a pieno della sua strategia difensiva. Joel Ribbonny sarà, come per Nami, molto interessante vederla giocare in Nico Robin. Quando infatti in fase di attacco l'avversario andrà a prendere una vita, vi darà la possibilità di pescare due carte e scartarne un'altra immediatamente dopo. Traducendo l'effetto comunque si parla di rimuovere, quindi ci sarà da farsi qualche domanda sulla modalità di esclusione della vita dalla propria pila dedicata. Ma sia in un caso che nell'altro, questa carta risulterà utilissima in ogni mazzo giallo o ibrido che si rispetti. Arriviamo quindi alla prima Secret. Silver Rayleigh tornerà utilissimo allo stesso marco o a qualunque rosso per andare a togliere di mezzo dei fastidi presenti sul terreno rivale. In più, se possiderete già dei personaggi pronti alla battaglia, potrete sfruttare il suo potere per minacciare dei pezzi grossi che, se non supportati da vari counter, andranno a far compagnia ad ogni carta giocata o distrutta nella pila degli scatti. Kaido e Linlin per me rappresenteranno la perfetta fusione tra il character apparso per la prima volta in OP01 e la mamma a costo 10 che tanto si è fatta odiare. Ponendo infatti i loro poteri, si potrà ottenere un connubio perfetto di cattiveria e distruzione. Certo, quel Don-10 peserà, ma, ad esempio con il supporto delle Onigashima presenti nello starter, già dal turno successivo potrete tornare a giocare carte in piena curva. Penso sempre di più che questi due colossi in Kaido la giocheranno da protagonisti. Ed infine arriviamo a Black Maria. Carta che, per quanto mi riguarda, poteva tranquillamente essere limitata o bandita nella scorsa Banned List promossa da Bandai, vi permetterà di aggiungere risorse esaurite sul terreno, 5 per la precisione, fino alla fine del turno, quando ve ne priverete tornando ad un numero di Don sotto il vostro controllo, pari a quelli posseduti dal vostro avversario. Carta straordinaria, soprattutto se giocata in Kaido, che, per assurdo, turno dopo turno potrà attivare il proprio effetto andando a scartare le vite rivali. Sto ragionando per eccessi, sia chiaro, ma con i rinforzi che sono arrivati in questo capitolo, credo che l'Animal Kingdom tornerà presto a far parlare di sé come archetipo da prendere seriamente in considerazione. Le copie da recuperare, ovviamente, saranno 4 per ogni carta, così potrete iniziare a assaggiare attraverso le partite che vi aspetteranno l'efficacia di ogni elemento trattato in questo contenuto. Settembre è alle porte, aspiranti re dei pirati, il mare aperto vi chiama e la stiva è piena. Spetterà unicamente a voi scegliere il leader che vorrete impersonificare per partire alla volta del grande blu con un solo obiettivo in testa, trovare lo One Piece. E voi avete altre carte che bisognerà assolutamente avere quando le due leggende arriveranno sui tavoli da gioco? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.